Buongiorno, siccome oggi siamo davanti ad un argomento collenario, mi vengo a sentire la cucina, ma prima di tutto lasciatemi dire una parola per il mio sponsor. Dato che ormai sono un youtuber avviato, ci spiegai a NordVPN e ci dissi che fa, pochi soldi magari a me ammirate, e prima risposero no, perché tu sei carrone. E allora vi dissi, va bene, allora al prossimo video vi faccio avverire io. E quindi, c'è questa maghetta a caoci. Prima che cominciamo, andiamo a questa questione, di chi non stai parlando in inglese? Di chi è pista pensata, se io parlo in inglese mi immagino non si può tagliare, ma parla così a me mi faccio una visualizzazione in più. Comunque, ci sono ristoranti che ci mettono la foglia di oro subbligosa di mangiare. Io faccio picchio leggere, mamma io non ci aiuto mai, picchio cammazzita, al massimo potremmo usare il tuo paninato, e poi mi fa, salvo mamma il glutine, mi fa male. E non ti preoccupare papà, che c'è la foglia di lattuga da mio panino, ti può mangiare l'oro. Perciò io da questi posti non ci aiuto mai. Comunque, foglia d'oro subito così mangiare. Che cos'è l'oro? L'oro è un metallo, di un nivene l'oro, di sottaterra, e tu piglioni sottaterra, ma non come le patate che tu do, che è il veneno male. E' sottaterra assai l'oro, c'è l'oro, c'è una base alla si mangia? No, però sotto mangi, non si muore. Perciò io mi potessi raro in un ristorante, mi chiamato a salvo, metti di pasta 185 euro, c'è la pasta, e poi sopra ci avvio, dopo tu lisci. Che niente, no, no, se così c'è il massimo, ti può rompere i denti, però non muore. Poi piglio un po' di harina, ci avvio di sopra, tipo che fossimo dica, ci metto un po' di arancione così, per dare un po' di sapore, magari la bicchierina, se tu lisci forse, non sanno un po' di buono. Comunque, ci serve questo piatto, cari 185 euro a mare. E che tu mi dici? Ma chi è questa cosa? Si mangia? E c'è a dire, ma è una picchina di grido, ora tu puoi mangiare? E i miei put lisci non ti puoi mangiare. Ora, provi e ti ho detto mangiare, è molto, spati. Cioè, penso io, puoi chitare i soldi e puoi mangiare. Chitare i soldi, puoi chitare i soldi, gli fai coltivare una lattuga speciale nell'Antartide, poi ti fa venire quell'aere speciale, non sapi di niente perché nell'Antartide c'è scuro e non grisci buona lattuga, però a me non è una cosa che si mangia. Per definizione, picchina lattuga. Comunque, vabbè, oggi c'è la fine, questi lastimi vi saluto, cari cucinati. Sì. 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 Grazie a tutti